ciao a tutti benvenuti sul mio canale feri asmr io sono federica e quello che state per guardare è un nuovo video rilassante questa volta si tratterà di un video davvero molto speciale perché servirà soprattutto a regalare a due di voi un paio di sleep phones le sleep phones sono delle cuffie per ascoltare la smr di notte o comunque quando dormite infatti sono inserita all'interno di questa fascia molto morbida e confortevole e sì, devo dire che sono veramente molto 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 utili per gli appassionati di asmr ma queste non sono delle sleep phones normali infatti questa è la asmr edition guardate asmr edition infatti contengono 8 ore di asmr con le voci di tantissimi artisti del panorama internazionale e udite udite ci sono anch'io con una traccia originale e naturalmente senza pubblicità ne ho ben due paia da regalarvi appunto e questa è una small nel colore blu ed è nel tessuto più leggero quest'altra invece è una medium ed è color lilla nel tessuto più pesante quello felpato entrambi sono comunque veramente confortevoli come dovete fare per aggiudicarvele? ascoltate il video fino alla fine e leggete l'info box intanto stiamo per iniziare rieccomi come vi dicevo nell'intro questo video serve soprattutto per far sì che due fortunati di voi possono ricevere in regalo un paio di sleep phones in modo che possiate ascoltare l'audio comodamente anche mentre siete a letto e per addormentarvi in particolare queste sono delle asmr edition ciò significa che contengono ben 8 ore di contenuti asmr registrati da artisti del panorama internazionale e udite udite ci sono anche io con una traccia originale destinata esclusivamente alle sleep phones e quindi ascoltabile da chi di voi deciderà di provare ad aggiudicarse oppure ad acquistarle perchè sono anche vendita sul loro sito a proposito giù in descrizione trovate comunque il mio link affiliato e il codice sconto ripeto ascoltate il video fino alla fine e poi leggete l'info box dove c'è un riepilogo di tutte le regole per partecipare ma voglio iniziare questo video che parlerà di regali e vi spiegherò tra poco in che modo mostrandovi la mia maglietta di pampling come vedete c'è totoro questa maglietta potete acquistarla seguendo il link che vi lascio sempre giù in descrizione anche quella è un link affiliato e utilizzando il codice sconto per avere una riduzione del 20% sul prezzo d'acquisto e adesso prima di passare alle istruzioni per aggiudicarvi le sleep phones vi voglio mostrare i regali che ho ricevuto da voi si tratta di regalini presi direttamente dalla mia wish list di amazon di cui trovate il link sempre giù in descrizione leggete l'info box perché è sempre molto molto informativo e importante questi regalini, dicevo, mi sono stati inviati da alcuni di voi che voglio ringraziare personalmente ve li mostro il primo regalino che ho ricevuto è stato scelto da Matilde ed è contenuto in questa scatolina e si tratta di lucine queste sono carinissime e le ho prese per realizzare una bottiglia anzi in realtà più bottiglie perché se andate a curiosare nella lista di amazon ne trovate ancora qualcuna che vorrei la prima mi è arrivata da Dani perciò grazie a Dani e a Matilde per aver reso possibile questo questa bottiglia a forma di cuore decorata da me con lo spago e ovviamente con le lucine che mi ha regalato Matilde deve ancora essere finita voglio applicare un'etichetta e sopra voglio scriverci pozione d'amore mi sarà utile per un prossimo video che ne pensate? e la trovo adorabile e la trovo adorabile poi il secondo regalo è contenuto qui dentro e mi è stato inviato da Alessandro un affezionato un affezionato effetto della prima ora e non ve lo mostro semplicemente perché sarebbe un po' complicato farvelo vedere aprendo il pacco senza fare rumore ma questa bellissima scatola regalo contiene una mini ring light da tavolo che mi sarà utilissima soprattutto per fare i video dalla scrivania sono super 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 contenta quindi grazie Alessandro i prossimi tre regalini sono tutti stati scelti da Dani e sono delle pille ricaricabili che fanno sempre molto molto comodo nel mio caso il caricatore ne avevo già un altro ma questo è di riserva e mi è utile per caricare contemporaneamente più batterie ovviamente e infine una scheda di memoria molto veloce che mi sarà utile per evitare l'over buffering non so se sapete cosa sia nel caso scrivetemelo nei commenti comunque è un fenomeno che avviene purtroppo molto spesso con le altre schede di memoria che possiedo già e questa dovrebbe risolvere il problema quindi grazie ancora a Dani l'ultimo regalino che mi è arrivato e so che ce n'è un altro in arrivo è questo che mi è stato donato da Viola e sarà molto molto utile per un prossimo roleplay visto che mi richiedete sempre roleplay medici vi ricordo qualcosa una tavola ottometrica con le lettere carina anche per fare tracing bene arriviamo finalmente alla parte del video che probabilmente vi interessa di più volete provare a ricevere in regalo una di queste due cuffie slipfons ASMR edition bene tutto quello che dovrete fare è essere iscritti al mio canale e avere le iscrizioni visibili perché voglio premiare qualcuno che mi segue essendoci qui anche la mia voce mettere like a questo video magari salvatevelo anche in qualche playlist e poi commentare qui sotto hashtag Fatina e un pensiero felice quello che volete potete scrivere qualsiasi cosa l'importante è che sia un pensiero bello e che vi faccia sorridere specificate anche se volete la taglia S o la taglia M e basta sceglierò a breve seguitemi mi raccomando per scoprire quando uno dei pensieri felici che mi avrete lasciato qui sotto e comunicherò la persona a cui andrà il regalo anzi le persone a cui andranno i regali spero che questa idea sia di vostro gradimento io per adesso vi saluto non dimenticate quindi di mettere like iscrivervi al canale e commentare hashtag Fatina e il vostro pensiero felice e anche la misura delle slipfons io e la mia bottiglia fatata con la funzione d'amore vi salutiamo e noi ci vediamo come al solito se vi va nel prossimo video bacini fatosi adesso tocca a te hai già lasciato il mi piace iscriviti e clicca sulla campanella per non perderci di vista oppure abbonati se vuoi sostenermi ed entrare a far parte della Fairy Crew ah e se vuoi continuare a rilassarti clicca su uno di questi altri video che ti lascio qui intorno penso possano piacerti buonanotte